Io credo di rappresentare per la mia storia personale, per i compiti che ho potuto svolgere in questi anni all'interno dell'università, credo di poter rappresentare una svolta, un cambiamento vero nei meccanismi di governo della nostra università. Meccanismi che devono per forza modificarsi nella direzione di un premio al merito. I meccanismi sono questi, sono quelli della difesa, dell'arricchimento della nostra ricerca e dell'apertura del nostro mondo accademico verso il mondo esterno. Noi siamo troppo chiusi. Questo è un meccanismo inevitabile e decisivo per il rilancio del nostro sistema universitario. Da qui bisogna passare. La cultura è nostra e ce la rinveniamo! La cultura è nostra e ce la rinveniamo!